Questo è War Heroes, mi ho scaricato un giorno a fare, sentendo su un crano qualsiasi, così, per vedere, facendo eventi, ecco qua. Sì, adesso, cos'è? Una cosa? Nunca ho visto. Uno. Adesso mi, sto, 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 vuole dire, mi ha guardato. Abbiamo prima questa volta. Però, lo so, saranno le nuove carte. Quante! Cosa? Non ci credo. Ecco, facciamo una battaglia. Se volete scaricare, si chiama War Heroes. Potete andare all'inizio del video, vedrete il nome. Ecco, c'è adesso anche qui. Che cosa di velo lo io? C'è i carri armati. Se ce l'ho cosa avresti. Le trascine. Elicottero. Elicottero. Il chi lo ferma con l'elicottero? Da schifo. Ah, poca vita perché è troppo potente. Da un medico. Picchia, picchia, duro. Picchia, 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 picchia. Picchia, picchia, picchia. Vediamo sto caro. Vediamo sto geniale. Overwatch. Come la ric bringen. V blah. Vediamo sto caro. Vediamolico. Vediamo cash. Vediamo. Vediamo. Vediamo��. Vediamo. 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 Vediamoeteri. Vediamo così. Vediamo. Vediamo. Oh, ho, ho, ho Bum. Noo. 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 Ff. 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 Noo. e ci sono tratti di un crano a me vedete di un modo questo è quello che per ciò questo è quello questo è quello questo è quello che è questo è quello che è tutto quello che è questo è quello che è ... 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 bello bello 320 1000 questo qua che cosa fa? Rocco carte vediamo se ce l'ho eh si ce l'ho eh c'ho nessuno questi qua tutti questi qua ce l'ho io sono arrivato all'area in altro campo di battaglia che si chiama qua i 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